Dovrà essere necessariamente una festa, un modo per avvicinare ancora di più le giovanissime generazioni alla propria terra e dalla propria tradizione. Un'idea vincente che si ripete che vuole continuare a crescere di anno in anno. Si tratta della camminata tra gli ulivi che si svolgerà domenica 28 ottobre ad Andria all'interno dei poderi pellegrino in contrada la spineta. Questa è l'opportunità di valorizzare oltre al prodotto principe della nostra provincia, della nostra area fondamentalmente quello che è il nostro territorio, quindi le nostre tradizioni, i profumi, gli odori e i colori di una terra ricca di storia, del lavoro di generazioni di contadini che hanno permesso e garantito la permanenza su questo territorio in maniera di assoluta leadership di tanti alberi di olivo che sono come un monumento proprio al lavoro e allo sforzo dell'uomo. Questa mattina la presentazione dell'evento alla stampa. Molti i partner del progetto per un itinerario spettacolare che permetterà di attraversare tre diversi poderi nella stessa contrada agricola di pregio andriese per circa 5 chilometri di percorso di media difficoltà e diversi scenari tra cui uno dei punti più alti in cui sarà possibile scorgere in lontananza anche la costa adriatica per tutti i partecipanti pettorali e tanta beneficenza ma anche la consapevolezza che in questo momento così complesso per l'agricoltura andriese a causa della totale mancanza di olive per le gelate dello scorso inverno serve valorizzare al meglio la propria terra per combattere le note negative. Partiamo dalle note positive dimenticando che effettivamente questa sarà una delle annate memorabili per tante e tante generazioni per le negatività che andrà ad esprimere ma preferiamo domenica respirare l'aria buona, avere l'opportunità di camminare per gli olivi nella speranza di guardare al futuro in una maniera più ottimistica. Una seconda edizione che ha già visto una crescita di coinvolgimento e partecipazione visto che l'idea dell'associazione nazionale delle città dell'olio ha trovato terreno fertile per domenica in ben 17 comuni pugliesi e 123 italiani divisi in 18 regioni. Una nuova attenzione che noi poniamo anche nel campo della beneficenza perché riteniamo che coniugare questa attività di turismo, turismo rurale, turismo dell'olio perché noi parliamo di turismo dell'olio anche con quelle che possono essere le finalità benefiche credo che sia importante. Quest'anno abbiamo anche oltre alle associazioni che si interessano della lotta contro le determinate malattie abbiamo anche la Caritas diocesana perché aiutare anche le famiglie bisognose riteniamo che sia anche un dovere da parte di chi propone questo tipo di iniziative.